E col diretti Puglia lancia l'allarme siccità perché manca acqua negli invasi a causa del 30% in meno delle piogge. Infatti negli invasi della provincia di Foggia mancano rispetto allo scorso anno 85 milioni di metri cubi di acqua e le alte temperature aiutano poi anche gli incendi e servizio. Con il 30% di pioggia in meno e allarme siccità mentre solo negli invasi foggiani mancano all'appello 85 milioni di metri cubi di acqua rispetto al 20 agosto dell'anno scorso e le alte temperature favoriscono il propagarsi degli incendi. E l'allarme lanciato da col diretti Puglia a poche ore dall'ennesimo rogo che ha interessato le campagne tra l'Equile e Gallipoli. E' una strage che si ripete lasciando paesaggi lunari in Salento dove le fiamme si moltiplicano riducendo gli ulivi colpiti dall'infezione in torce gigantesca. anche a causa dell'abbandono forzato in cui versano campi pieni di sterpaglie e infestanti con evidenti problemi di sicurezza, insiste Savino Muraglia, presidente dei col diretti Puglia. Per intervenire su un singolo albero andato a fuoco, aggiunge col diretti Puglia, servono circa 300 litri d'acqua e la vastità e numerosità degli incendi non è gestibile con gli scarsi mezzi ordinari che vigili del fuoco e protezione civile hanno a disposizione. Nelle scorse notti sono andati in fumo altri 500 ulivi ormai secchi per la xylella, dice Gianni Cante, le presidente di col diretti Lecce, con un incendio che ha interessato circa 7 ettari di ulivo ormai improduttivo da anni. I ritardi negli espianti e reimpianti hanno aggravato una situazione già critica con la burocrazia che reca più danni della xylella. Sulla base dei dati ISAC da CNR per i primi sette mesi dell'anno, in relazione all'ultima ondata di caldo africano, la colonnina di mercurio è salito sopra i 40 gradi con ortaggi ustionati e la terra che si spacca per la calura.